RORACCIO RORACCIO È Musi Il Si, il Conque Il questo solo è Ho Il sguardo È un batu, è unaphetica C'è un saporecia È un pandemiro C'è un bel fra È unannu Sono un po' di un po' di un po' di un po' di una volta, che non mi siado Sono un peligro, sono un inutile, sono medio oleo, sono come un castigo del cielo, un verdadero castigo, sono un desastre, sono un estorbo, sono molto peor, sono un serio, una esquerda, sono una plaga, sono un becchio di mierda Atenzione che va a venire il centro contro l'area, la buscaba Núñez, cercherò! Goal! De Paraguay, Núñez, durmiò il equivo argentino, Ror de Romero, la pelota se le escurrió, se le metió, e a los 17 minutos del primer tempo, Tosco había hecho Paraguay, encuentra, così di carambola, il empate, ora, qui in Paraguay, Paraguay 1, la Argentina 1, il gol lo ha marcado Núñez Una cosa es el equipo argentino atacando, atacando es un equipo que tiene 7 velocidades, defendiendo parece todavía un modelo antiguo Se producen movimientos de este tipo, Colocchini que va a marcar, Núñez que le toca la pelota, el arquero que se sorprende casi debajo del arco Hay temas para ajustar, recién notábamos en un... No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un agombado Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente Soy medio sonso y tres cuartos boludo Soy medio sonso y tres cuartos boludo Soy medio sonso y tres cuartos boludo